benvenuti ragazzi la seconda parte perché il primo avevamo impostazioni errate abbiamo messo una prestation nuova che è notta quella vecchia le impostazioni portavano a una registrazione dei video per 15 minuti solo quindi in quel senso è bloccato il video precedente questo è il continuo sempre parkour abbiamo vinto il parkour de nob così così cosa ok ho visto un'altra ci siamo azzeccati l'ho fatto il livello 8 quanti livelli stanno L'ultimo passo è dalla porta? Provi di essere esperto perché se ce la faccio con le bouncer sono bravo io, con le bouncer sono bravo, sono bravo io con le bouncer però devo rimanere là mi pare e poi devo saltare, non lo so se devo passare ma se devo passare ma tu che hai sbervato? eh perchè questa è una specie parkour facciamoci una torsione con mano, che vuoi? devo sparare un po' di gente no 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 no, fanno lo ok finiamo prima queste allora andiamo con i Pro andiamo con le good Pro, ce la devo fare Buuuuuu Ok bi appena skiller allah il bios la piukan bing 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 ma li lì di 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 ò bamb boom bene poi così così ci fermiamo salta salta come nei monti però non si frena piccolo bambino piccolo polnetto rinforzante non ti frena ma non è che sono io che sono io non ti frena hai fatto due peccani hai fatto i pasticchi hai fatto i pasticchi perchè io salto ma io sono proprio stupido no dai non è stupido si sanno così autodesk oh perfetto ferma perfetto un corno corno di giurità corno 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 boom ecco qua bam boom io ma ma dov'è oddio vado vado eh si si io devo andare lì dentro ma manco scic up ma per favore ma per favore ma per favore manco scic ma ma spaccola le pelle ragazzi dopo bisogna fare la partita noo ci vediamo devo finirlo pollenn polletto e inforzati l'uva passa ma non saluta saluta noo l'uva passa ma non saluta pende pende non scrivono voglio scrivere un messaggio il santo padre pende 1 pende 2 pende 3 pende 3 pende 3 pende 3 perché non sono come le caprette schizzo non 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 è santo santo non è 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 santo è morto non è santo non è santo è sotto non è santo è scurta non è pusente salta di cuore dentro della notte non faccio no piccolo bambino malefico ma finiamo un paracusso non riesco proprio concentrazione concentrazione calma studia le mosse ecco vedi ecco calma ecco vedi concentrazione 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 non mi salta non ti salta capire vado nel l'issue non sono dedicato ne abbiamo uno boom 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 vai si ghiaccio ghiaccio che respira ho fatto pure il parkour finale la faccio con lo strano almeno un parkour lo voglio finire strano ai si dobbiamo finirlo ma ma sta un muro che altro non possibile oh oh guarda guarda è un po' impossibile 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 ma sono io che sono studia per me è impossibile oh non fate il mio personaggio no 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 io mi cazzo guarda guarda come è impossibile guarda io salto alla fine salto alla fine guarda salto alla fine salto alla fine non arrivo eh devo fare il perone non capisco sti cubi ah ecco siamo raggiungi dove ah là va bene si è prosta ma forse ho capito come si fa all'esterno oh bravo eh devi fare così corri salti giù oh è il limite non posso andare più avanti in giro guarda a terra limite grazie 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 comunque lì no eh no non lo voglio fai un provo almeno non mi sa che si sa esatto non lo fai ah ma fai un giù bello no fammi fare un giù un po' oh manco 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 più facile vai due volte vai due volte bella va bene la frecchereca eh no solamente dall'angolo dall'angolo ma io ci spazio mai ma domani matematica non lo devo quadrata che è solo lagga purtroppo eh davanti alla cervella davanti alla cervella davanti qua oh 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 il mammo mi faccio nubo però dai accesa dai dove c'è l'estrema che è l'estrema questo è l'estrema l'acolo avanti russo come è l'estrema c'è l'estrema ma c'è l'estrema ragione e sopra nei quadratini è una domanda più indietro e questo è la visuale è vero poi c'è il suo modo in traccia la x ma lascia stare e così su così è visuale in mare che non vedevo dove per favore ecco sì ho messo lì però ti saltavo qua alla fine e non so io vado a fare nubo vado a fare nubo fare nubo fare nubo uff niente purtroppo e devi fare nubo normale devi fare nubo normale eh non so vediamo nell'angolo mettiamo muova ma poi anche un velo e poi fisi tutto dentro da questo va non vado negli stelle ti butto fatto l'estremo fatto è qui se per guardare il cintro creativo quindi speriamo questo video non mi è piaciuta alla prossima ragazzi salutiamo e ci vediamo alla prossima c'è una partita normale bella raga